Senti, io ho 81 anni, che sentimenti ammari posso avere se non quelli che stasera quando torno a casa mi viene un coccolone e muoio, quindi avendo questa età, cosa fosse augurio Vi parlo di un giornalista che non esiste più. È scomparso ieri, a 84 anni, Gian Paolo Pansa, la penna che ha narrato i fatti salienti degli anni Sessanta. A lui si deve la cronaca dettagliata del disastro del Vajont, nell'ottobre del Sessantatré, e sempre a lui si deve la copertura mediatica in Italia dello scandalo Lockheed e la raccolta delle voci più importanti all'indomani della strage di Piazza Fontana, di cui è ricorso il cinquantesimo anniversario il mese scorso. È stato per vent'anni vice direttore di Repubblica per poi diventare codirettore dell'Espresso. Successivamente all'allontanamento dalla testata, è stato collaboratore delle maggiori redazioni italiane fino al ritorno al Corriere della Sera. È stato allontanato dalla sua stessa ala politica, la sinistra del PCI, a causa del saggio Il Sangue dei Vinti, del 2003. In esso, Pansa ha narrato i crimini compiuti da alcuni gruppi partigiani subito dopo la liberazione. Dopo la morte del figlio Alessandro nel 2017, ha trovato conforto nella moglie Adele che gli è rimasta accanto fino all'ultimo. Fin da bambino, scrive in un saggio del 2011, diceva che sarebbe diventato giornalista. E lo ha fatto, per tutta la vita.